Cocaina, crack, ecstasy, MDMA in polvere e hashish. Le foto diffuse dall'acquistura di Torino mostrano le sostanze sequestrate durante i controlli effettuati dalla polizia al K-Future Festival, che si è concluso domenica notte sotto la tettoia del Parco Dora. Quattro persone sono state arrestate per spaccio di droga, due per rapina e 59 sono state le segnalazioni alla prefettura per violazione della legge sugli stupefacenti. In particolare, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 24enne trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 6 di crack e poi un 33enne con 17 grammi di chetamina, 39 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di MDMA e 5 grammi di hashish. Arrestato anche un 43enne trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, già suddivisa in 41 dosi pronte allo smercio. Un 23enne invece è stato arrestato dagli agenti della divisione polizia amministrativa. I poliziotti gli hanno sequestrato 56 pastiglie di ecstasy e poi 90 confezioni di carta richiuse contenenti LSD. Gli agenti gli hanno anche sequestrato una somma di 445 euro, che gli investigatori ritengono frutto dell'attività di spaccio. Durante l'evento, due giovani sono stati tratti in arresto dagli agenti del commissariato Madonna di Campania per una tentata rapina nelle vie limitrofe della zona del Parco Dora.